Spring Creators Update è il nome ufficiale di Redstone 4, il prossimo grande aggiornamento di Windows 10 che, dopo mesi di test e sviluppo nel programma Insider, si prepara adesso ad approdare pubblicamente. Vediamo in questo video le principali novità. Cliccando con il tasto destro del mouse su una tile e selezionando la voce Altro, è possibile accedere direttamente alle impostazioni dell'app. Nel menu Start sono state aggiunte di default le cartelle Immagini e Download. Cortana è in grado di capire se abbiamo lasciato in sospeso una determinata attività su un altro dispositivo. Se sì, ci chiederà se completarla o meno tramite un'apposita notifica. La sezione Appunti, invece, accessibile attraverso il menu Hamburger, è stata divisa in due grandi categorie, organizzatore e gestisci competenze e inoltre ha avuto un restyling grafico consistente. È stato aggiunto un nuovo toggle all'interno del centro notifiche denominato Condivisione in prossimità e conosciuto anche come NearShare. Si tratta di una funzionalità simile all'airdrop adottato da Apple su macOS e consente, sfruttando la tecnologia Bluetooth, di condividere immagini, video, link e file di qualsiasi altro genere. Le voci, espandi e comprimi del centro notifiche possiedono adesso il colore preimpostato di Windows 10, in questo caso arancione. È stata migliorata la velocità di apertura delle schede, così come è stata migliorata l'esperienza di navigazione con modifiche apportate sotto il cofano. Adesso è possibile silenziare una scheda cliccando sull'apposita icona. Si tratta di una funzionalità richiesta da tantissimo tempo e che Microsoft finalmente si è decisa ad introdurre. Vediamo come funziona. Avviamo un video con il volume a tempo. Clicchiamo sulla scheda. Ed ecco, possiamo attivare. Il tema scuro possiede adesso dei neri più profondi e l'interfaccia delle sezioni elenco lettura e cronologie preferite è stata modificata rispecchiando i principi del Fluent Design System. Aggiunta la possibilità di nascondere la barra dei preferiti cliccando sulla voce Nascondi Barra, la compilazione automatica per le password è supportata anche nella modalità Imprivit e il supporto per i driver precision touchpad è stato migliorato ulteriormente, permettendo agli utenti di effettuare lo zoom e lo scroll del siti web con una maggiore fluidità nei movimenti. Impostandoci nelle impostazioni di sistema, possiamo notare come la home page possiede adesso un'interfaccia leggermente diversa al fine di occupare meno spazio possibile. Infatti le voci non sono più quadrate come la precedente versione, bensì sono tutte quante rettangolari. Andando nella sezione schermo, possiamo notare una nuova opzione dedicata completamente alle impostazioni relative all'audio del dispositivo. Da qui è possibile regolare il volume di sistema, correggere eventuali problemi attraverso il pulsante risoluzione dei problemi, scegliere l'input e output, testare il funzionamento del microfono e scegliere il volume per ogni singola applicazione. Sempre all'interno della sezione schermo, è stata aggiunta la voce impostazioni ridimensionamento avanzate, utile a risolvere i problemi di scaling con determinati display ad alta risoluzione. Nella sezione invece consumo dati, abbiamo diverse novità. Ad esempio, possiamo selezionare la rete per la quale vogliamo consultare i dati di utilizzo. È possibile inoltre limitare il consumo della rete da parte delle Universal Windows App e delle funzionalità di Windows, ed è stata aggiunta inoltre la possibilità di settare una soglia massima per ogni connessione. Aggiunta la voce Avvio, nella sezione dedicata alle applicazioni, che consente agli utenti di selezionare le app che si possono avviare in background all'accensione del sistema operativo. Per quanto riguarda invece la sezione Privacy, possiamo notare come questa sia stata completamente rinnovata graficamente con l'aggiunta di nuove impostazioni, tra cui una che permette di gestire l'accesso al file system da parte di tutte le applicazioni. Inoltre, per quanto riguarda Windows Update, è possibile adesso limitare il consumo di banda. Basta appunto recarci in Windows Update, ottimizzazione recapito, opzioni avanzate, e appunto da qui possiamo limitare la larghezza di banda utilizzata per scaricare gli aggiornamenti, imbostando appunto l'eventuale percentuale di banda che Windows Update può sfruttare. La funzione Non Disturbare è stata denominata in assistente notifiche, con l'aggiunta della possibilità di regolare durante quale attività si deve attivare in automatico, ad esempio mentre si sta effettuando una sessione di gaming, oppure selezionando, come al solito, un orario predefinito. Windows Timeline è una funzionalità annunciata da Joe Belfiore all'evento Build 2017, il cui obiettivo è quello di creare un meccanismo di sincronizzazione costante tra i diversi PC e tablet Windows 10, uniti da uno stesso account Microsoft. In questo modo si possono ripristinare le stesse applicazioni, gli stessi file e le stesse sessioni di lavoro da un dispositivo ad un altro. Microsoft ha implementato una nuova voce dell'impostazione di sistema dedicata interamente ai fond. Basta andare su Personalizzazione, Caratteri, da cui è possibile visualizzare i caratteri installati nel computer ed è possibile inoltre eliminarli, aumentare le dimensioni oppure rinominarli, ma la novità più importante è sicuramente quella relativa al download di nuovi font direttamente dal Microsoft Store, garantendo una semplicità e una velocità notevole. I font sullo store sono per la maggioranza gratuiti, ma ce ne sono anche alcuni a pagamento.